Una bomba clamorosa, oggi è il giorno delle nozze, perché Bavena ha rinviato le nozze? Ma anche Cantagirone esiste oppure no, Bavena è una vittima, o Bavena ti sa la verità? E tu viaggi e dici, dopo un marito, figli, le valigie e corri e li porti a scuola E mamma fai questa, e mamma fai quest'altra, e mamma giochia Bellissimo Mamma di uso Mamma di uso Mamma di uso Lo scandalo del bimbo in affitto Abbiamo due bambini in affitto, Rebecca e Sebastian Cioè io sono mamma, è una cosa bellissima Un bambino e ave, usato con l'inganno Un lato bianco con gli api blu Un vecchio vaso sulla tv Nell'aria il fumo delle cannele Due bucce rosse, rosse come mele Ho un filtro contro la gelosia E una ricetta per l'allegria Legge il destino, ma nelle stelle E poi ti dice solo cose belle Mamma, mamma 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 Non esiste Mark Cartagione Non esiste Vieni il tuo viaggio e dici Trovo marito, figli, le valigie Corri e li porti a scuola E mamma fai questo E mamma fai quest'altro E mamma giochiamo Parma d'Urso Parma d'Urso Parma d'Urso Parma d'Urso Parma d'Urso Vieni il tuo viaggio e dici Trovo marito, figli, le valigie Corri e li porti a scuola E mamma fai questa E mamma fai quest'altro E mamma giochiamo Bellissimo Bellissimo